Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Sarebbe scaduto giovedì 25 febbraio, invece è stato prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamento in entrata ed uscita tra regioni o province autonome. È l'effetto della proroga del decreto legge approvato nel primo consiglio dei ministri del governo Draghi. Restano comunque le deroghe, ovvero ci si può spostare oltre ai confini regionali con autocertificazione per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È sempre consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Tra le novità del provvedimento c'è anche il blocco degli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private, dunque niente visite a parenti e amici. Possibilità che resta invece nelle zone gialle e arancioni almeno fino al 5 marzo, secondo il DPCM, attualmente in vigore. Quindi con la possibilità una sola volta al giorno di spostarsi verso un'altra abitazione privata, in massimo due persone con i figli minori di 14 anni, oppure con disabili o conviventi non autosufficienti, ovviamente rispettando il coprifuoco tra le 5 e le 22. Tra le deroghe è rimasta anche quella per i piccoli comuni. Nel testo è specificato infatti che nelle zone arancioni, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini. Tra questi rientrano per esempio 10 dei 20 comuni dell'Anconetano, per i quali scatta da domani fino a sabato la zona arancione. Staffolo, Serra dei Conti, Polverigi, Cupra Montana, Camerata Picena, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Ostra, Sirolo e Castelplanio. Grazie a tutti.